Continuo ad essere sulla cosiddetta lista d'emergenza di contatti della Sea-Watch. Sono stata contattata per quella missione a giugno, tre giorni prima di andare in mare. Chiaramente se mi chiamassero andrei immediatamente. Sono pronta a salvare altre persone. Questo sì, abbiamo appena appreso che la politica rigida si è ridotta in Italia, ma comunque continuiamo ad avere degli impedimenti amministrativi. Ora la Sea-Watch, un'organizzazione non governativa fatta di tantissimi volontari, siamo tutti pronti a riscendere in campo laddove ce ne sia bisogno. Io sarò sicuramente tra di loro.